Buona giornata! Oggi qui da San Galgano vi porto una frase importantissima, una frase che all'inizio non lo sembra, ma poi vedrai che è fantastica e anche un po' divertente, che serve specialmente la mattina. La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato, Bill Watterson. Questa frase è fantastica, mi fa spicciare dalle risate, perché la prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato, cioè che non ci hanno provato a contattare, perché no, ma con quelli mai via, ma anche no. Quindi questa può essere una frase divertente, carina, simpatica, ma in realtà parla a te, parla a come sei, ti sta dicendo, ok, avrai tutti i problemi del mondo, ci avrai tutte le cose da fare, però pensa alla tua crescita, pensa a aumentare l'indice di contatto, se così si può dire, cioè pensa a essere più appetibile per gli altri, per il mondo, pensa a essere migliore principalmente per te, perché principalmente te stai con te tutti i giorni della tua vita e quindi se puoi stare meglio, che ne dici? Ti piace qualcosa? Direi di sì. Quindi oggi cerca di capire cosa ti piacerebbe imparare e comincia a prendere un piano d'azione di questa cosa, comincia a dire ok, voglio fare questo, voglio mettere, voglio scrivere in palestra, però cose con dei punti di controllo, quindi ok, entro due settimane voglio, per esempio, che se si diceva di iscriversi in palestra, voglio andare in palestra e scrivermi e fare un piano con un personal trainer, poi dopo un mese voglio controllare a che punto sono e voglio aver fatto il, che ne so, 20% del percorso che il personal trainer mi ha insegnato, mi ha dato. Quindi trovati dei punti in cui devi passare per raggiungere quell'obiettivo, perché poi ti svelo un trucchetto semplice che io uso sempre. Quando la scadenza si avvicina ti farai di tutto, farai di tutto per raggiungerla e quindi ti motiverà, questa cosa ti motiverà, quindi non ti mette le scadenze troppo lontane, mettiti delle scadenze abbastanza scadenziali, abbastanza vicine, quindi in modo da poter subito sfidare, metterti in gioco con la scadenza. Quindi oggi aumenta il coindice di contattabilità. Daniele Paci, felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao! Ciao!